È previsto nella mattina del 31 di luglio l'accertamento sul corpo di Carlo Pergentino Tanganelli, il 72enne morto durante l'alluvione di sabato 27 luglio ad Arezzo. L'esame è stato disposto dalla procura di Arezzo e sarà eseguito dall'equipe di medicina legale dell'Università di Siena. Solo dopo la salma potrà essere restituita ai familiari che potranno dare l'ultimo saluto e organizzare i funerali. Quel giorno, lo aveva già annunciato il sindaco Alessandro Ghinelli, sarà lutto cittadino. Tanganelli, 72enne, residente ad Olmo, ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate, era molto conosciuto e stimato. Viveva in questa collina dove adesso le abitazioni sono praticamente isolate per via della furia dell'acqua che ha tagliato in due la strada. L'uomo infatti stava tornando a casa quando il fiume di acqua e fango lo ha travolto mentre si trovava ancora a bordo della sua auto. La decisione di lasciare l'auto per poi procedere a piedi potrebbe essergli stata fatale. La rabbia è che mio cugino era nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ora si dice a freddo, si dice io se ero lì non mi fermavo lì, forse non andavo su, però quando siamo lì quello che si può fare non si sa. Le cause della morte saranno comunque accertate dagli esami disposti dalla procura. Potrebbe essere già l'accertamento sul corpo a far emergere dettagli per capire la dinamica del tragico epilogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.